ah ah ragazzi siamo in viaggio verso il muro bene ragazzi siamo arrivati dentro d'acqua tutto ciò del venerdì deve ancora arrivare il momento fatidico l'appuntamento in piazza sul muro con gli altri maggiori listi che verranno da altre zone d'italia e tu da dove vieni che guardi? no ma veramente facciamo un po' di gossip dai 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 it's gossip i ho a gente i ho a gente il mio il funo iscriviti . Brown Grazie a tutti. Dove siamo? Siamo nel bagno. Guarda qui che ti faccio una ripresa. Dai. Certo. Lasciate che il mondo... Possiamo partire. La droga. Sto per due oreggio. Non c'è due pomme noi. Che pomme ragazzi, che pomme. Lia, la busta dov'è? La busta? Sta in macchina. Come è piena? No, no. Vieni a... Sacchetto. Scusi, reggi. Scusa, reggi. Lo rimpiamo a ritorno? Allora, questo è il sacchetto piccolo che poi verrà inserito in questa più grande in modo tale che poi la uniamo così e poi a remo facciamo... Scusi, reggi. Senti, ma abbiamo fatto il dusting, si vede? Noi due siamo accettate dal grande Ello. Sto pulendo perché non vorrei che il tappo sia. La polizia è mai polizia. Ah, con la U, scusate. Ah, lo faticano. Nooo, il piccolo faticano. Policinillo! Policinillo! Nina! Bella! Bella Nina! Sono ancora vivi dopo il cent'erbe di... Questo è il più bello. Il mio lato migliore. E' avanti senza guardare. 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 Questa è avanti senza guardare. Per la serie. I capellini del capo, questa. Si, questo si. Questo è un cappellino... Ho visto pure Alex E' una cosa che devo dire a telecamera è spenta Perché è una cosa volgare Ragazzi è finito il winter bugs Stai registrando? Eh si sto registrando Facciamo una panoramica Siamo entro d'acqua Questa è un suo giro Attraverà C'è un giro La mia città è un giro Il giro Non mi piace Non mi piace Che hanno in un giro Non si pota Stai ridendo adesso, progica. Io ho un obiettivo nella vita, quello di arrivare a 70 anni con la carta d'identità con la scritta scritta, e sono sulla buona strada. E la scienza e la coscienza vi dice di premere il tasto stop. Maggio. Stai registrando, prog? No, io ho una mia, ma quando è in base. Mi avete visto una pagina in codice html, è un ragazzo? No, è un ragazzo. Ciao! Ciao! Un saluto a tutti gli utenti di Tutto Maggiolino. Ringraziamo Remo per l'ottima organizzazione. Complimenti, ci siamo divertiti anche quest'anno. Grazie Remo! Grazie Remo! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!